Come vi ho raccontato in un recente video e come ho reso nota a chi mi segue sui social network sono da poco stato a Parigi con la mia famiglia per alcuni giorni a fare il turista e però come do obbligo non ho solo fatto il turista che gira per le strade o peggio ancora va nei centri commerciali ma ho visitato, ho costretto la famiglia a visitare anche dei musei non è vero costretto, è piaciuto anche a loro anche se forse i miei ritmi non sono sempre i loro tra i vari musei che abbiamo visitato vi ho parlato già della regia di Versailles in descrizione trovate il link ma vorrei parlarvi oggi del Museo del Louvre un museo che ha un grandissimo contenuto artistico ovviamente ma ha anche un contenuto storico che vale la pena almeno velocemente dimensionare il video di oggi quindi è una veloce guida proprio di massima per orientarsi all'interno del Louvre cosa vedere, cosa non vedere, come organizzare la visita soprattutto che è la cosa più importante ed appartiene alla nostra classica rubrica del Travel Club storico-filosofico andiamo a cominciare un sesso di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che mi fa sempre compagnia come ci sono i compagni d'avventura tradizionali Topolino, Tostoi Batman d'Andrea, il mostro peloso, il cuscino, un altro mostriciatolo qua l'altro Topolino vorrebbe che parlassi di Disneyland Paris ma non ne parleremo e io mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia su questo canale mi occupo di preparare dei video che generalmente spiegano il programma di storia e di filosofia che si fa alle superiori ma da quanto mi viene detto vengono usati sia per preparare esami universitari a volte anche alle scuole medie, a volte per preparare concorsi e a volte semplicemente per ripassare e riscoprire e tornare ad amare queste bellissime materie che sono la storia e la filosofia quindi se siete appassionati andate a scartabellare nel canale o anche in descrizione trovate le varie playlist per trovare davvero centinaia e centinaia di video, siamo oltre quota 800, ci sono anche i podcast guardate quello che vi piace di più lo trovate oggi parliamo di una cosa che non è direttamente una lezione di storia o di filosofia ma in qualche modo si lega parliamo infatti del Louvre, un grandissimo museo, il più visitato museo al mondo stando alle statistiche che è uno anche dei simboli della città di Parigi una meta imperdibile, immancabile quando si va a Parigi inevitabilmente perché? Perché è un museo immenso, perché ospita dei capolavori davvero forse i più importanti della storia dell'arte di ogni secolo, di ogni tempo, c'è la Gioconda per rinne una per capirci, c'è la Venere di Milo, c'è la Nicchi di Samotraccia, c'è Nella Marea, c'è Amore Psiche di Canova tante tante opere che avete visto miliardi di volte perfino i miei figli, il mio figlio di sette anni quando ha visto la Gioconda ha detto ma io questa la conosco, sì, ebbene sì ma ci sono anche tantissime altre opere, un museo veramente immane direi più che immenso, perché è forse oltre ogni umana possibilità c'è talmente tanta roba che è difficile riuscire a vederla tutta o resistere nel vederla tutta io ci sono stato appunto qualche giorno fa con anche dei bambini perché c'è la mia moglie, c'erano questi bambini di sette, dieci, dodici e quindici anni è chiaro che i bambini, i ragazzi ormai più grandi di quindici e dodici anni hanno apprezzato molto, soprattutto certe zone ma alla fine dopo quattro ore abbondanti di visita erano tutti molto stanchi solo io tentavo di proseguire perché volevo vedere ancora alcune cose sono riuscito a vedere tutte le cose principali che volevo vedere però alcune stanze siamo passate in iper velocità alcune altre non le abbiamo proprio viste perché? Perché è un museo davvero troppo grande per una sola visita che vuol dire anche però che ci si può tornare più volte che magari un anno vi concentrate su alcune cose un altro anno rivedete alcune cose fondamentali ma magari esplorate le altre sale che non avete visto se avete occasione di tornare ovviamente se potete permettervelo anche più volte a Parigi c'è da dire che il museo è molto economico come tutti i musei parigini costa poco pagano solo i maggiorenni anzi di oltre 25 anni se siete residenti in Europa e non è una cifra per niente alta conviene come ho detto già per la regia di Versailles comprare il biglietto online prenotare l'orario di visita prenotando l'orario di visita si fa una cosa molto breve di qualche minuto un quarto d'ora, venti minuti per entrare dopodiché si si gode quattro ore, cinque ore, sei ore a seconda di quanto resistete dentro al museo con dei bambini penso che quattro ore sia probabilmente il termine massimo è vero che ci sono tantissimi divanetti eccetera, però insomma bisogna anche essere realistici se siete però magari ragazzi di vent'anni trent'anni che hanno non hanno ancora i figli a seguito e hanno ancora le energie quando ero giovane quando andavo solo con mia moglie non eravamo ancora finanzati riuscivamo a tenere anche di più però è chiaro che non c'è niente di male a un certo punto a crollare ecco, la cosa importante da sapere è questa che proprio per la sua mole proprio per la sua immensità e per il fatto che può lasci che non c'è la facciata a vederlo tutto è bene pensare prima cosa a vedere l'errore che forse ho fatto in quest'ultima visita è che non mi ero programmato in maniera molto metodica le varie cose non mi ero segnato ad esempio alcune opere in che sale erano se io avessi avuto subito fin dalla partenza l'elenco delle sale precise e avessi ben chiaro la piantina del museo probabilmente avrei risparmiato un po' di tempo e mi sarebbe rimasta qualche energia in più per vedere qualcos'altro però alla fine comunque nel massimo ce l'avevo se voi volete ottimizzare i tempi prima di andare all'ouvre pensate a quali sono le opere che volete vedere adesso ve ne citerò alcune le più famose però poi magari ce ne sono anche altre che vi piacerebbero il sito dell'ouvre vi permette di vederle già prima e sapere in che stanza sono così poi potreste sapendo la stanza il numero, il piano l'ala andare a recuperare in maniera più precisa puntando subito all'arrivo magari tralasciando altre cose che possono essere carine ma non è tutto dello stesso livello all'interno dell'ouvre come è evidente ci sono dei capolavori immensi le opere di David di Giricot di La Croix di Leonardo da Vinci c'è anche la Vergine delle Rocce c'è qualcosa di Caravaggio eccetera ci sono anche altre opere minori ci sono anche dei pittori fiamminghi vabbè a parte Rubens e qualcun altro altri che dite vabbè anche se non vedevo quest'opera di questo fiammingo non cascava il mondo ci sono dei crocefissi medievali che per carità sono anche simpatici interessanti ma quando avete visitato gli uffizi gli scrovegni e altre cose in Italia ne avete visti di crocefissi fatti anche meglio di quelli che ci sono all'ouvre quindi potete andare via un po' più veloci capite non tutto è di stragrande importanza alcune cose sì alcune sono di media importanza alcune sono tutto sommato anche trascurabili in un'ottica di contenimento dei tempi allora avere ben chiaramente la prospettiva di quello che si vuole vedere può aiutare ora vediamo un po' come è organizzato il Louvre vediamo anche come è organizzato tutto tutti i vari piani e poi vediamo alcune opere che secondo me dal punto di vista artistico ma magari anche storico vale la pena di segnalare allora per parlarvi della piantina del Louvre vi mostrerò a schermo qualche immagine ma vi mostrerò anche questa piantina che ho guardato a casa un po' stropicciata dall'esperienza quando voi infatti entrate al Louvre ricordo meglio con i biglietti prenotati in descrizione vi metto il link per prenotarvi ora e data della visita vi fanno entrare dalla piramide principale che si intravede qua qui quella piramide di vetro che è stata costruita negli anni 80 se ricordo bene voluta a Mitterrand che ancora oggi è uno dei simboli forse simboli più famoso del Louvre è anche una bella vista questo nel giardino interno del Louvre con le varie ali e con appunto la piramide entrate dalla piramide e vi fanno scendere scendete due rampe di scale mobili e arrivate a un piano zero meno due diciamo che è in pratica qua viene nominato in realtà sì meno due che è il piano in cui ci si introduce al Louvre vedete eccolo qui qua c'è la piantina piano meno due dove c'è il guardaroba se volete lasciare la roba c'è il punto informazioni dove potete trovare anche queste cartine queste in italiano ci sono in tutte le lingue ci sono a volte anche delle mostre poi ci sono le varie uscite quando alla fine terminerete da lì tenterete di uscire tenterete perché poi ci sono parcheggi agganci alla metropolitana ed altre cose da lì si incomincia e si sale almeno uno dove iniziano in realtà le varie opere il museo è strutturato così ha una forma a ferro di cavallo quindi come vedete ha una zona qui una zona centrale e un'altra ala qui le ali hanno un nome questa è l'ala Richelieu questa zona centrale è chiamata Chouli l'altra ala è chiamata Denon quindi a seconda di dove vi trovate hanno anche le sale hanno dei numeri vedete da 100 a 106 da 130 a 137 da 160 a 187 e ogni piano questo il meno uno inizia con 100 la sala zero inizia con 200 livello uno da 500 sono numerati in un certo modo questa piantina la fregatura che io ho trovato un po' drammatica è che questa piantina non riporta tutte le sale ne riporta solo alcune agli angoli per orientarsi per il resto non sono indicate quindi a volte soprattutto al livello due mi sono perso a un certo punto se proprio più dove ero sarò un po' fesso io magari ma insomma ho trovato un po' caotica il percorso non c'è un percorso chiaramente indicato come a volte avviene nei musei che ti mostrano le frecce percorso consigliato quantomeno e quindi rischi a volte di girare un po' in tondo e di vedere due o tre volte le stesse opere e dici ma io qua ci sono già stato è vero che alla fine le prelate fiamminga i quali si assomigliano un po' a tutti però a un certo punto dici ma come sono dieci minuti che giro sempre questa zona ma vorrei andare avanti insomma bisogna stare un po' attenti ecco poi c'è da dire che di tanto in tanto lungo i territori di passaggio da una sala all'altra ci sono le piantine più in grande più specificate quindi è meglio anche confrontare le cose come vedete qua poi vi segnala ogni tanto alcune opere importanti vedete quelle qua non so se siede ma cosa mi mostro a schermo il ritratto di Francesco Primo che è famoso vi dice lo trovate alla stanza numero 822 il cambio avvenuto è sua moglie tra l'altro era in prestito quando sono pensato io non c'era e me lo sono perso però c'è la Merlettaia River Mer a 837 insomma alcune opere sono segnalate sono opere interessanti tra le migliori e lì la guida vi dice dove trovarle questo è utile però attenzione non ci sono tutte quelle importanti perché qua ad esempio vi mette alcune opere che dici insomma i giudici e la corona sono belli però lo storpio nella pittura spagnola mi sarebbe interessato di più che mi vienesse messo la zattera di Jericho insomma a volte ci sono alcune cose in cui diceva Murabbi non era segnato sono dovuto andare in internet a cercarmelo vedere dove era perché non lo trovavo perché me l'ero perso alla fine l'ho trovato insomma bisogna affidarsi a questa cartina è utile ma non affidarsi solo nella cartina è meglio avere prima ripeto un elenco delle opere che si vogliono vedere e delle stanze in cui si trovano quelle opere così quando sarete al piano e dite ok sono nell'ala giusta adesso mi guardo tutto il museo me lo osservo tutto però guardate che sono migliaia e migliaia di opere non potete stare lì minuti e minuti su ogni opera entro nella stanza do un'occhiata vedo quello che mi piace me lo guardo meglio però mi tengo anche a mente che nella stanza dopo in quella o due stanze dopo c'è quell'opera che voglio vedere e allora me la farò vedere ci faccio caso poi do comunque un'occhiata perché magari qualcosa mi è sfuggito magari così posso cogliere dei ritratti che non pensavo di cogliere ho trovato il famosissimo ritratto di Erasmo da Rotterdam che vi mostro adesso ho trovato il famosissimo ritratto di Diderot che vi mostro adesso che mi sono messo lì l'unico che li guardava perché non li guardava nessuno quelli che piacciono a me però ci sono tante cose che è bene esplorare anche così andando un po' a caso diciamo però è anche bene le opere che proprio non si vogliono perdere è bene segnarci dove sono perché sennò rischiate che vi siete visti tutto un piano vi siete persi due stanze mi stava per capitare e c'era proprio la stanza dove volevate vedere tipo la merlettaia di Vermeer non me l'ero vista alla fine del piano mi sono detto ma come avevo finito il livello 2 non ho visto la merlettaia dov'è e allora io e mia figlia abbiamo corso indietro tutto con il ridoio fino a che l'abbiamo trovata e però insomma di farsi due volte tre volte il piano capite che può essere faticoso se poi la visita è di 4 o 5 ore quindi effettivamente è questo poi c'è da dire che quando iniziate a livello meno 1 c'è la scultura almeno io ho iniziato dall'Ale di Scegliò c'erano tutte queste grandi sculture che rischiano anche un po' di distrarvi o meglio siamo partiti dal piano meno 1 poi siamo finiti subito al piano sopra in alto abbiamo cominciato di scendere invece avendo prima magari cosa c'era vedere qui cosa c'era vedere là magari ottimizzavamo meglio i tempi e vedevamo staccandoci un pochino meno le cose importanti quindi queste sono alcune iniziative poi ci sono le audio guide poi c'è potete anche qui prendere la visita guidata con qualcuno che vi scorte magari quello vi fa risparmiare tempo vi porta sicuramente ai punti che più desiderate però anche lì dovete fare i vostri conti io avevo i bambini ho lasciato perdere a priori visite guidate con guide che ci danno i tempi ho preferito una con tempi nostri perché ogni tanto ci siamo letteralmente seduti e piazzati lì per dieci minuti per riprendere fiato perché obiettivamente è faticoso è poco adatto anche a chi ha difficoltà di ambulatoria perché sì ci sono anche gli ascensori però ci sono anche tante 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 scale imprevedibili imprevedibili qui là tre scalini poi altri tre poi cinque poi una scalinata poi è vero che poi cercando trovi anche gli ascensori però non è agile non è facile e quindi io per fortuna non ci sono dato quei passeggini ma rispetto ad altri musei che ho visto in passato in altre città ma in generale tutta la Francia non è granché da questo punto come l'Italia come l'Italia non è granché nelle barriere architettoniche se avete sedi rotelle se avete passeggini fate fatica fate fatica è già faticoso di suo e quindi ripeto cercate di farvi prima una mappa adesso vi segnalo alcune opere che secondo me vale la pena rivedere vale la pena rissegnarsi e vi dico anche in quali stanze le trovate allora intanto vi faccio vedere anche a schermo mentre parlo il modo per cercare all'interno del sito del Louvre collections.louvre.fr è il sito dove potete cercare non è facilissimo perché intanto anche se mi impostate la lingua inglese lui cerca solo in francese quindi dovete sapere il titolo dell'opera in francese cosa che non è semplice però potete aiutarvi con l'autore magari mettere Leonardo mettere Caravaggio mettere non so Canova chi volete voi per cercare anche lì c'è da dire che spesso sono catalogati un po' male quindi che so se cercate Leonardo ci sono più voci che rimandano a Leonardo però insomma scartabellano un po' e vedendo l'esempio che vi mostro io e soprattutto selezionando nei filtri a sinistra la spunta su esposte al Louvre dovreste trovare la collocazione nell'opera io vi segnalo alcune opere che mi sono scritto che ho visto che secondo me vale la pena di vedere partiamo dalla pittura in ambito pittorico partendo dal secondo piano del piano a livello più alto quindi andiamo al contrario perché io ho seguito queste storie sono andato prima in alto e poi sono sceso vi segnalo al secondo livello La Merlettaia di Vermeer che vi citavo prima ve la mostro stanza 837 il famoso ritratto di Francesco I era di Francia abbiamo citato grande nemico di Carlo V in storia abbiamo citato varie volte vi metto un link in descrizione stanza 822 essendo un re francese è messo ben in risalto sempre secondo livello il cambio a valuto e sua moglie 814 guardate che se andate a visitare il Louvre nell'agosto del 2022 come sono andato io non c'è è in prestito e vabbè tornerà sempre secondo livello il famosissimo ritratto di Erasmus da Rotterdam di Holbein il Giovane stanza 809 famosissimo ritratto del Cardinale Richelieu che abbiamo usato varie volte anche noi nei nostri video stanza 828 poi passando sempre al secondo livello ma un'altra ala vi segnalo il celebre ritratto di Denis Diderot di Van Loh stanza 928 ve li sto anche mostrando così che vi saltino agli occhi e poi sempre secondo livello in realtà a bozzo di Bonaparte al Ponte di Arcole che però è ritenuto migliore del disegno finito di Gross alla stanza 935 questo per dire proprio le cose imperdibili secondo me del secondo livello primo livello sempre pittura sicuramente la Gioconda stanza 711 la trovate perché sono indicazioni perché c'è la fila la Gioconda non potete vederla dovete fare la cura per avvicinarvi però vabbè insomma poi avete un secondo per guardarla vi cazzano via non lo so come ho scritto sui social network è quasi più bello fare la foto alle persone in coda per vederla alla Gioconda che alla Gioconda stessa d'altorno la Gioconda la conosciamo in tutte le salse vederla così a un po' di distanza piccolina un secondo non so quanto renda secondo me non rende io l'ho fatta la coda per vederla per carità però è quasi più dal punto di vista del significato è quasi più significativo vedere la gente che alza le braccia per fare la foto alla Gioconda non a caso in una delle edizioni dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica usata dai naudici mi ricordo bene di recente ve la mostro c'è proprio in copertina la foto di gente che fa la foto alla Gioconda e quell'opera l'abbiamo letta e commentata insieme ve la metto in descrizione insomma ha un'esperienza un po' particolare quella di vedere la Gioconda però è insomma è significativa se ci si pensa senza eccessivi moralismi voglio dire pensare a cosa vuol dire oggi l'opera d'arte cosa vuol dire fare esperienza dell'opera d'arte in un museo come il Louvre è una cosa particolare comunque Gioconda 711 ma lì attorno c'è una marea di capolavori ad esempio a 710 c'è la Vergine delle Rocce sempre di Leonardo c'è l'Eberrimo c'è il Giovanni Battista sempre di Leonardo c'è l'Eberrimo a 710 c'è anche il San Sebastiano del Mantegna molto bello non lo guarda nessuno ma secondo me uno è famoso è bello vale la pena di vederlo molto un po' macabro direi sempre in quella zona lì a 700 c'è sono grandi quadri francesi c'è La Libertà che Guida il Popolo di Delacroix storia l'abbiamo citato miliardi di volte Rivoluzione del 1830 in descrizione vi metto il link sempre a 700 quasi di fronte c'è La Zatera della Medusa di Jericho altra opera su cui si sta relati si sta tantissimo a 700 ho finito poi a 702 c'è Il Giuramento degli Orassi di David David grande pittore di Napoleone ma lì è un quadro di ambito di storia romana interessante sempre a 702 di David uno dei quadri più famosi dell'arte francese c'è La Morte di Marat l'avevo citato tante volte perché si lega alla rivoluzione francese in descrizione vi metto il link bello molto bello da vedere c'è un po' di gente che si ferma ma non tantissimo quindi riuscite a gustarvelo in buon modo sempre a 702 sempre di David che ci sono varie opere di David c'è anche Il Ratto delle Sabine sempre di argomento romano ma anche questo è un quadro molto famoso basta mi pare di aver detto tutto sì in questo 700 ah beh poi a 712 ultima cosa da segnalare sempre di ambito italiano c'è Caravaggio La Buonaventura sono due versioni di questo quadro una a Roma una a Louvre ma quella a Louvre forse è più famosa e la vedete basta per la pittura delle stanze attorno a 700 rimane da segnalare le stanze 900 le ho dette basta pittura direi che queste sono le cose principali diciamo qualcosa per la scultura per la scultura vi segnalo vabbè a livello 1 c'è poca roba quasi tutto a livello 0 a livello 1 però la Nicky di Samotraccia la vedete è in cima una scalinata famosa c'è un sacco di gente che fa foto è un po' di alto ma fa un certo effetto è molto scenografico ne vale la pena la vittoria di Samotraccia la Nicky di Samotraccia la trovate chiamata in vari modi è sempre lei sotto in parallelo al piano sotto ma praticamente quasi non proprio esattamente sotto alla Nicky ma quasi c'è poi l'altra grande opera scultoria che è La Venere di Milo stanza 345 la Nicky era 703 stanza 345 e Venere di Milo a livello 0 lì vicino c'è 344 la Tina di Velletri che è una storia un po' particolare trovata fino al 1700 in Italia poi portata a Parigi poi a 308 c'è il Palazzo di Dario con vari elementi del Palazzo di Dario vari elementi di Medio Oriente c'è anche tanta arte egizia tante sculture grandi pezzi di palazzi insomma abbastanza significativo e mastodontico e poi vi segnalo a 227 proprio in là il codice di Amurabi che vale la pena vedere non è segnalato nelle mappe bisogna poi cercarlo ma ci si arriva a 227 prima invece sulle stanze numerate attorno al 400 che a volte si vedono all'inizio dell'ala diciamo scultoria vi segnalo due opere italiane Lo schiavo morente di Michelangelo 403 famosa bella molto intensa e poi una delle opere con più gente che fa foto che è Amore e psiche di Canova sempre 403 solo che Lo schiavo morente all'inizio l'amore e psiche è dall'altro capo della stanza è una stanza grande però bella insomma avete visto l'immagine che vi ho mostrato molto molto significativa mi pare di avervi detto tutto almeno le cose principali poi ci sono tante altre opere romane greche moderne moderne nel senso del 500 600 che valgono la pena di essere ammirate sempre anche della scultura ecco queste sono le opere più belle famose che hanno anche un contenuto storico quindi o perché raccontano pezzi di storia o perché hanno fatto la storia dell'arte o perché magari come nel caso della Gioconda ripeto hanno a volte stimolato anche filosofi riflessioni eccetera sul valore dell'arte sul valore estetico dell'arte e mi pare di aver detto tutto poi ripeto ci sono migliaia di opere quindi vi ho segnalato giusto una trentina di cose per darvi qualche punto di orientamento poi voi scartabellatevi mostrato come si cerca sul sito dell'Ur non è facilissimo però se magari guardate in internet cercate opere da vedere all'Ur sculture da vedere all'Ur magari anche in inglese trovate tante cose magari se qualcosa vi interessa ve lo cercate vi vedete in che stanza è e ve lo segnate prima poi andate con un po' di segni di orientamento poi ripeto è bello anche camminare fare un giro vedere se avete le forze con la dovuta calma tutto questo museo che è letteralmente immenso poi vi segnalo anche la celebre scena del film Band Apart di Godard negli anni 60 in cui i tre protagonisti in un certo punto decidono di battere record di tempistica per vedere l'Ur e lo fanno tutto correndo con le guardie che mi dicono di far piano e lo vedono in nove minuti se mi ricordo bene ecco nove minuti non è fattibile è una finzione scenica di Godard in nove minuti potete vederevi forse un liello ecco ma tutti e quattro anche correndo la vedo dura però insomma l'Ur qualche ora ci vuole se avete le forze guardatevelo tutto corretevelo tutto e cercate di trarre anche un'esperienza non solo artistica ma anche filosofica perché la gente fa la cora per vedere questi musei perché la gente fa la cora per vedere la gioconna perché si deve fare il selfie con la gioconna che non è guardate non voglio usare moralismi dire sbagliato male godetevi la gioconna però è segno di qualcosa è segno che l'esperienza estetica non è quella che ci aspettiamo che sia a volte non è il voler vedere voler gustare provare il piacere perché il piacere volete che si provi a vedersi la gioconda tre secondi netti mentre la gente ti spinge via o una guarda ti dice veloce 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 io non ho goduto nessun piacere a vedere la gioconda così se voglio godere il piacere di vedere la bellezza della gioconda me la metto sullo schermo del computer la ingrandisco e me la godo con calma a casa e però è così anche a un concerto pensateci bene se voglio godermi la bellezza di una canzone me l'ascolto con le mie cuffie ad alta definizione sul divano di casa non vado a un concerto dove è suro dove il cantante un po' stona dove c'è gente che mi spintona lì è un'altra cosa non ho detto che sia per forza sbagliato e quindi la gente che riprende canta sopra la canzone la gente canta sopra la canzone perché non vuole sentire la canzone la canzone l'ha già sentita ma perché vuole forse vivere la canzone perché la gente si fa il selfie con la gioconda non perché vuole vedere la gioconda la gioconda l'ha vista un miliardo di volte tutti quelli che vanno a vedere la gioconda i miei figli l'avano già vista la gioconda a sette anni l'hanno già vista mille volte la gioconda non è più esperienza artistica del vedere o dell'ascoltare è qualcos'altro andare nel museo con i suoi pregi i suoi difetti con i suoi pregi i suoi difetti ecco questo era quello che volevo segnalarvi sull'Uvr museo importante museo grande museo faticoso ma museo che bisogna prima o poi vedere magari anche più volte se ci riuscite se ne avete moro vi ricordo che in descrizione trovate i titoli che sono comparci qui mentre spiegavo in modo da riascoltarvi un pezzo o un altro della presentazione e poi trovate anche i link a tutti gli altri video che ho citato sono citati vari e trovate anche i modi per seguire il canale oltre al classico iscriviti e suona la campanella per venire in contatto con me tramite i social network o tramite la newsletter settimanale gratuita che vi fa il punto dei video ma anche delle letture delle visioni di varie cose che varie esperienze diciamo culturali filosofiche e storiche che faccio durante la settimana in più sempre in descrizione trovate i modi per sostenere il canale se vi piace poi quello che faccio ho finito ci vediamo presto per altri video di storia, filosofia educazione civica ogni tanto anche del Travel Club ciao alla prossima musica 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 musica